Benvenuti, siamo con Giuliano Di Nicola, capogruppo dell'Italia dei Valori al Consiglio Comunale dell'Aquila. Di Nicola ben tornato ad Abruzzo Web. La prima domanda, all'Aquila non si discute solo di ricostruzione, come forse è anche giusto, si parla anche di diritti civili, c'è stata una proposta del capogruppo di appello per l'Aquila a Ettore Di Cesare di istituire il registro delle unioni civili, lei è intervenuto con una sua posizione, ha detto va benissimo la proposta di Di Cesare, però bisogna anche tutelare le famiglie così come è stabilito dalla Costituzione e ha preannunciato degli emendamenti, ci spiega la posizione dell'IDV su questo tema? Gli emendamenti li ho depositati questa mattina in segreteria del Comune dell'Aquila, la posizione è molto chiara, l'Italia dei Valori è a favore delle unioni civili, è a favore dei diritti civili, anche voi, anche la vostra testata ha pubblicato che abbiamo istituito il Dipartimento per i diritti civili a Pescara che sono stati affidati al responsabile dell'Arcigay, quindi questo dimostra che la posizione dell'Italia dei Valori è una posizione molto chiara di grande apertura per tutti i diritti civili. Io ho ritenuto che nel momento in cui si va ad approvare la istituzione delle unioni civili, richiamare anche al senso della famiglia tradizionale che in Italia è ancora la istituzione prevalente e quella su cui si è fondata la società per millenni, mi è sembrato doveroso ed opportuno, tanto è vero che ho semplicemente richiamato l'articolo 29 e 30 della Costituzione che tutela la famiglia intesa nella maniera tradizionale, quindi le due cose non sono affatto in contrasto, è una integrazione e come tale l'ho presentata, poi c'erano altri due argomenti diciamo minori, in un secondo emendamento richiama ai diritti delle unioni civili ma richiama anche al rispetto delle leggi, siccome in un altro punto si parlava solo di diritti e benefici, mi è sembrato opportuno richiamare anche i doveri, perché in ogni società che si rispetti esistono i diritti ma esistono anche i doveri. Sicuramente il tema farà discutere molto il Consiglio Comunale, sia all'interno delle opposizioni, perché ci sono varie sensibilità, ma anche all'interno della maggioranza. Ne avete parlato anche con i rappresentanti della parte cattolica dello schieramento, quindi cattolici democratici, api e anche forse una parte del PD? Io personalmente non ho parlato, ho sentito informalmente qualche amico dei cattolici democratici che non sono pregiudizialmente contrari, così mi è sembrato, però è chiaro non posso io esprimere una posizione che spetta soltanto a loro. Io credo che l'argomento vada affrontato in maniera laica, ognuno rimane fermo nelle proprie convinzioni religiose e dà i giusti valori alla famiglia e vanno riconosciuti anche i diritti delle minoranze. Quindi mi auguro che l'argomento venga affrontato in maniera laica. Io voglio dire questo, perché siamo a favore, perché il testo richiama esattamente il testo approvato a Napoli da un esponente, da un leader nazionale del nostro partito, Luigi De Magistris è un esponente di punta dell'Italia dei Valori, quindi avrei avuto difficoltà a non votare una delibera che è già stata approvata a Napoli e a Milano e ancora adesso verrà approvata prossimamente anche a Modena, a Montesilvano, il sindaco dell'Italia dei Valori ha fatto un analogo atto deliberativo, va dato atto e va riconosciuto a appello per l'Aquila nella persona del consigliere Ettore Di Cesare di aver posto questo argomento all'ordine del giorno, perché magari, proprio perché l'Aquila ha come priorità assoluta la ricostruzione, cominciare a parlare anche di diritti civili, è giusto, è sacrosanto e le due cose possono andare di pari passo, d'altra parte il consiglio comunale è fatto da una pluralità di consiglieri per cui gli argomenti possono anche essere affrontati contemporaneamente. Voglio aggiungere che proprio questa mattina negli uffici del Comune dell'Aquila ho avuto modo di scorrere anche la bozza di delibera che la Giunta Comunale sta approntando sullo stesso argomento, segno che le sensibilità sono le stesse, anche perché quando si tratta di argomenti che sono minimo comune denominatore di più programmi con cui ci si è presentato alle elezioni è giusto che questi argomenti trovino una convergenza tra maggioranza ed opposizione. Quindi bene ha fatto il consigliere Di Cesare, ma bene ha fatto anche la Giunta, perché nel programma di mandato del sindaco Massimo Cialente e nel programma dell'Italia dei Valori c'è la difesa dei diritti civili. Benissimo. Torniamo un po' a un tema di carattere un po' più nazionale, che però avrà sicuramente delle ricadute anche a livello regionale e locale. I rapporti fra il Partito Democratico e l'Italia dei Valori non sembrano dei migliori. In Regione addirittura il capogruppo del PD ha parlato anche in riferimento all'IDV, in particolar modo era rifondazione, ma anche all'IDV, di forze non responsabili. Costantini, il capogruppo dell'IDV, ha risposto molto pesantemente. La fine della foto di Vasto è la fine di un'alleanza a sinistra con il PD che guarda più verso l'Udc. Cosa sta succedendo? Io non credo, ricavo delle sensazioni. Io personalmente sono a favore di un'alleanza organica tra Italia dei Valori, Partito Democratico e Partiti della Sinistra, perché il centro-sinistra non si può snaturare. Probabilmente può essere anche una piccola guerra di logoramento per le posizioni a livello nazionale, qualche intemperanza simpatica del nostro leader può aver dato fastidio e può aver urtato delle suscettibilità all'interno del Partito Democratico. Ma io credo che alla fine si ricomporrà, non dico la foto di Vasto, ma ci sarà un centro-sinistra, anche perché ho forti perplessità a credere sia a livello nazionale sia a livello locale che l'Udc vada ad un'alleanza organica col Partito Democratico. Per cui io sono convinto che alla fine una forma moderna di centro-sinistra saremo in grado di metterla su. Ipotizziamo per paradosso che arrivasse l'ordine di scuteria di rompere le alleanze a tutti i livelli, perché magari le cose non andranno come qualcuno immagina a Roma. Varrà di più l'appartenenza di partito o l'appartenenza alla coalizione eletta dai cittadini? Questa è una bella domanda maliziosa. Posso rispondere, posso cavarmela dicendo tranquillamente che quando succederà la valuteremo con gli organi di partito, con i nostri leader regionali e nazionali, valuteremo, ci rapporteremo con chi ci ha eletto e se i motivi di scontro dovessero essere proprio insanabili prenderemo le nostre responsabili decisioni. Ma mi auguro che questo scenario apocalittico che lei ha descritto non abbia da accadere. Andiamo di nuovo ad una questione che sta interessando molto da vicino il cavoluogo, ma anche tutta la regione, che è quella del riordino delle province. Ci sono tante tendenze, tanti scontri di campanile. Una delle proposte sul tavolo, quella che al momento sembra in pole position, è quella di una provincia del Gran Sasso, l'Aquila Teramo, è una provincia Chieti-Pescara. Lei è intervenuto su questo tema. Cosa ci dice? Forse debbo rivendicare l'addizione provincia del Gran Sasso, perché credo di averla scritta per prima, ma non vorrei rivendicare un diritto di primo genitura. Lei ha detto bene, si stanno riaccendendo a proposito e molto spesso a sproposito tutta una serie di campanili, di posizioni spesso campate in aria, di chi vuole andare con una provincia, di chi vuole andare con l'altra. Allora, anche qui l'Italia dei Valori ha una posizione netta e precisa, ribadita sia a livello nazionale da Di Pietro, sia a livello locale dal capogruppo Costantini. L'Italia dei Valori è per l'abolizione totale delle province. Questo è il punto fermo del programma dell'Italia dei Valori. Però non ci possiamo sottrarre a quello che la legge ci impone. L'articolo 17 della Spending Review dice che bisogna riordinare le province in ambito regionale, perché altrimenti il discorso andrebbe anche allargato. Non sarebbe forse arrivato il momento che l'Aquila e l'Abruzzo riprendano quei territori che furono tolti con reggio decreto del 2 gennaio del 1927, quando per formare la provincia di Rieti venne sottratta all'Aquila e all'Aquilano tutta la Valle del Salto, la Conca di Amatrice con il circondario di Città Ducale. Questo per esempio è un altro tema che potrebbe… E anche venne presa una parte dell'odierno pescarese per creare la provincia di Pescare. Sì, per Popoli, fu sottratta Popoli e per Rieti fu sottratta una parte dell'Umbria. Quindi anche questo, e qui diamo merito al Sindaco Cialente che il 13 agosto di quest'anno ha posto anche questo problema all'attenzione dei cittadini. Allora, oggi, visto che dobbiamo… Poi andrebbe ridisegnata anche la regione in quel modo, perché sono territori del Lazio. Stavo appunto arrivando a questo. Stavo dicendo che oggi noi dobbiamo discutere di una riorganizzazione all'interno dei confini regionali, così come la Spending Review ci impone. E allora la cosa più logica è Pescara Chieti e la provincia del Gran Sasso. Ma forse più che da un punto di vista nominalistico, queste cose andrebbero riviste in termini di servizi al territorio, perché comprensori come la Valle Peligna, come la Marsica, come il Vastese, come la zona di Lanciano hanno diritto ad avere servizi adeguati anche perché sono zone popolose economicamente produttive. Però se noi oggi dobbiamo rimanere entro i confini della legge, la cosa più logica, più ovvia è fare una provincia Chieti e Pescara magari le cittadine costiere, mi riferisco che so io, a Silvi, a Pineto, a Roseto. È chiaro che hanno maggiore affinità geografica con Pescara piuttosto che con l'Aquila. Ridifenendo un attimo bene i confini, io penso che una provincia del Gran Sasso possa tutelare bene gli interessi geopolitici ed economici delle due attuali province dell'Aquila e di Teramo. Grazie. Grazie a voi.